Siamo al settimo giorno di sciopero dei lavoratori ASU beniculturali impegnati in tutta la regione siciliana. Siamo oggi a Segesta, che rappresenta il simbolo dei monumenti della nostra regione. Mentre ieri in aula si discuteva dei soldi, dei finanziamenti dati all'SRL, lanciamo una proposta al nostro Presidente, costituiamo una SRL per gli ASU beni culturali, così risolviamo il problema. Caro Presidente, abbiamo i soldi, abbiamo una legge, abbiamo un articolo voluto da tutto il nostro Parlamento siciliano, voluto dal Governo. Pertanto si deve assolutamente procedere. Non ci avete ricevuto, questi lavoratori, i sindacati non sono stati ricevuti dalla Presidenza per avere delle risposte concrete, per avviare il processo di stabilizzazione, previsto dalla stessa legge che la regione ha approvato. Noi chiediamo finalmente alla stabilizzazione, dopo dieci anni di lavorare presso i beni culturali, mi sa che ci spetta, dopo venticinque anni di precariato e dieci anni di prestare il lavoro in nero legalizzato presso la regione. Oggi manifestiamo dinanzi al Parco archeologico di Segesta come simbolo della regione siciliana e dei suoi beni culturali. Siamo già al settimo giorno di sciopero, tutti gli altri siti a partire da Messina, Taormina, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, siamo tutti sciopero, tutti con le braccia incrociate, perché il Governo Schifani si è dimostrato totalmente indifferente, incapace di fronte a una legge quale l'articolo 10, specificatamente il comma 2, che nella sua totale incapacità nel governare con i suoi assessori ci stanno negando l'applicazione di questo articolo, di questo comma, ci stanno dimostrando che hanno fatto una legge e ne stanno applicando solo la parte che interessa a loro. Per quanto riguarda noi dei beni culturali, non sta dimostrando nessun impegno, nessun interesse.